Ok, passiamo in aulica Già sta bucchinello finire la Aspettiamo un attimo che trasino Uè, non ti vedi più, che cacchio è successo Eccoci qua Ok, aspettiamo un po' che trasino Sì, vorrei un attimo pure io fare delle cose mie se è possibile Ok, questa cosa va bene Salve a tutti quanti amici Salve, oggi siamo tutti in comune della nostra Noema Buonasera Mi accompagnate di Noema oggi Mi accompagnate anche di Noema Allora, allora, ascoltatemi bene Scoltatemi Facciammi trasi prima a questi buchi Che sennò mi evitano Pronto Siete pronti New game New game Partiamo da calo Il pizzo è arrivato Allora, questo è il gioco che ho caricato il video Abbassa un po' il volume del gioco Non mi senti? Non mi senti? No, perché il volume del gioco è troppo alto Ok Ora mi senti? Sì Sì Sì, ok Allora Praticamente, questo è il gioco che ho portato ieri in due video Si vede tutto nero Che significa che si vede tutto nero? Scusate Che significa che si vede tutto nero? Non si vede Noema Ah, grazie al cazzo Ora si vede Allora, vedete il gioco? Lo dico io Noema, ora si vede Ora si vede Noema Non si vede niente Scusate Ma che struzzata Non si vede tutto nero? Non si vede tutto nero? Si vede il gioco Eh, spazio C'è il muri di truoni Chi è che si vede tutto nero? Non si vede tutto nero Non si vede tutto nero Io non lo so Io non lo so Ma è bella E ora non c'è il gioco Nemmeno io lo sento Ah, no Eh, perché non c'è nero C'è manca la musica Grazie al quattro Bu Poi, si, pazzi Allora Praticamente, questa qua Vedete? Allora, questa è quella là Che avevo fatto vedere Comunque, diciamo, nel video Dobbiamo riuscire a vincere questo gioco La dobbiamo sempre Chi ti è morto? Succhi A spendere la luce Accendi la luce Accendi la luce Che sta a fare? Eh, come ci sta pure un' Accendi la Ma spazio Mi sapete Maggi, non scura Già io Sì, vai, vai Eeeh Pizzaro 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 Un gaminitio Chi è che andè? Aspetta Casa Pizzaro Vai Che la puttana è stata È stata che la puttana Lui Vai in un'altra stanza Qua, vado Vai di qua Qua vado Qua, questa è la cosci Eh, sono tutti i bass Sono i tuoi, Carmi Eh, ragione Aspetta Aspetta Fammi mettere un attimo Che siamo già sul gioco Che prima Tutta la musica iniziale Allora, praticamente Quando incontriamo Quel cutugno Quei cosci piccolini Dobbiamo Vanno Vanno Pizzaro E' la troia Vado Che è la troia Vado Che è la troia Vado Vado Che è la Vado Vado La luce non si accende No, qua si spegne, diciamo La luce qual è? Scusa Ah, buonasera Ah, e poi dove siamo usciti? Siamo sempre là Zitto Buonasera Sì Qua non siamo mai andati Ci andiamo Ah, sì, mio, chissà Stanzi lì No, ci siamo andati Stanzi lì Stanzi lì Dobbiamo uscire a vincere questo gioco, amici Che è molto importante Eh, giurammelo tu Ah, si era potuto creare là di fronte Vai, giù Allora Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Che la puttana era creatura Che sta facendo un buon Fa sempre questo Ah, si è rotto Vai dritto, vai dritto Non andare in bagno Eh, non andare in bagno Vai dritto Ja, che faccio dritto Ok L'orologio Non ha dato l'orologio Siamo sulla buona strada Lasciatemi fare Ok C'è una statuetta Ok Ok, la puttana porta Aiutate Ma un ragazzo Mi fa Sì Ma Allora Allora No, no, no No, no Non tu Bella e buona Che tu Aiutate Aiutate Ah, no Spazio Mi sa Pizzalo Non ci accende Quella è Eh, che spazio Ma la farà Bia fa Portalo E anche se mi fa Ma bella E buona Ma giusta Vado Buttemma Buttemma No, no, no Buttemma Uè Arriduto Arriduto Eia Oh Spazio Mi giochi Merde Chi Ma è che Ah, rire Tu rire Ah È nir Che è nir È scuro Pizzalo Uh Ah, cazzo Mi rastanza Anzi Lì Caccia Fa Mi fa Zumbaia Ma Bazzer Creca Ma era No Che No, no No, ti prego Ti prego Vattene Caccia Fa Caccia Fa Caccia Vaga Giù di questo No No, dove sta la luce Stiamo andando così Stiamo sempre su questi Bucchini Che si parla buona fa zumba Che si parla buona fa zumba Sto bucchini Aspettate che Tengo un po' di raffreddolo Un po' di mucca Vole Bucchini E' venuto a chiudere il po' Pfff Perché ti appaffina la cazzo E' venuto a chiudere E' venuto a chiudere Troia E' venuto a chiudere Che le c Guide Eh Dio Ma Mi E' venuto a chiudere Facci E' venuto a chiudere Ma Lo sa Boh E' venuto a chiudere 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 Tu Chiaramente Spicci Puttana piccola dove sei Puttana piccola Questa bella e buona mi fa zumba Giù saccia Puttana piccola Riri riri tu perché ridi Buonasera Picciallus Da stanzali Buonasera La tor- La torce L'ho trovato Per andare dove sta Andiamo nell'istante bui Vai Andiamo nell'istante bui Che tenari Accendi la torcia Mai tengah la lampadina E' una piccola giapicciata Scegli da Stramord Lo sape che abbiamo la buona Lo sape che abbiamo la buona Lo sape Io sapevo che bella e buona sei Viguità è morta Ma dobbiamo Ma dobbiamo Amma vengono Ho trovato la torcia Non l'ho mai trovata La torcia Ho trovato la torcia Ho trovato la torcia E' una piccola Ma dobbiamo Ho trovato la torcia E' una piccola Pobre Non mi ha già morto Quanto parla Ho trovato la torcia Ho trovato la torcia Ho trovato la torcia E' una piccola Quanto rire Quanto rire Ma già muovre Caccia fa è già vero ciao giacomo e guai venga a cagliare in cagliar fa cagliar ma sto a cagliar ma compare qua dentro eh che sto a povera la troia allora eh iniziamo ho sta bene ho sta bene chi ti muoho ho sta bene ho sta bene ho sta bene ho sta bene guarda la fissa quando fa così ah la devo guardare fissa che ci faccio male non l'ho giocata proprio ma io non l'ho già vista scusami io non l'ho vista proprio la devi guardare mi faccio tanto per non avere questa troia ma guardammi eh allora io abbiamo sempre la torcia io la devo guardare i mandarini che melibi la devo guardare e si avveresti ma troia dove sei fatti vedere troia 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 fatti vedere troia troia fatti vedere troia no ma guarda la veglia non ti preoccupare in pace ah ma guarda la cosa 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 e ora ti metti in mano ma ora ora ma non ti metti più c'è ti ha fatto tutto il trasporto questa troia? è già però, ti passi anni, stavo giocando stavo giocando stavo giocando nooo praticamente la giocando come si è la mia siccola oh no, come si è adesso non ti metti l'attività se sarei da con cosa troia dove stai troia ma questa era la santa non dovremmo anche un cazzo rira rira ma chi è morto caita i just want to play si 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 ah che c'ha fatto troia dove stai troia dove stai no 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 troia guarda mi faccio guarda mi faccio guarda mi faccio va a finire niente si guarda guarda mi faccio guarda mi faccio se mi metto a povero perché la faccio a cazzare ti chiedo no perciò c'ha paura si 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 è messo paura questa bella buona c'è un povero mi fa fuggire andiamo a bereare tutte queste cose andiamo a bere grande troia questa è su delle luci e piccola ma fa sempre che rira 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 ma ronno questa bella e buona fa zumbare a me o perciò c'ha l'andere che fino a fa che l'ha tutta io ah che già fa noema questa bella e buona fa zumbare noema oh che cosa è qua è sempre quella cosa che scappa ti venga più a fine maronna mia scendo 3 1 ucano non so bene so book in e crella forse neanche sento l'audio in ritardo quindi mi compare in calcio come già fa ma funziona cambiamo gioco ma voglio vedere stiamo andando molto avanti qua ci stiamo riuscendo però sto sussurando con me una troia ma l'orologio sto sussurando con me una troia si è dato l'orologio ma l'abbè l'ha già guardato ma l'abbascia che già fa l'abbascia io sto cacciato io l'abbascia senti te ma fino aoccia non sai ma che sta fare da me stagretti l'ho già guardata sempre un pochino mi fa cagare sotto a me questa troia com'è possibile Emiliana Cantona ora se ne è giù vai vai un'altra paura io non avevo paura di nessuno è tu ciao ehi mo posso scendere vai vai scendi scendi non deve andare in quella stanza ehi non vado in questa stanza lo spazio immagino questo è bello e buono mi fa zumbai però ahhh 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 eh mi sto parlando tutto in stanza scusa puttana dove sei puttana fai guarda puttana puttana fai guarda che sto parlando proprio sto parlando monna venga ah no stai puttana guarda Carolina non avere paura ah che è la città, che è? no che cosa c'è? questa grattina guardate, guardate sto guardando una buona così ma non scompare lui e che lo va a essere guardato, che ha già fatto? che lo va a essere guardato? la canna sta sempre là? scusate ma io sto guardando questo ma io la guardo una volta, due, tre ma io che... ma io la portarla dove stai? oi tu sei scassato il cato, che ti non ha rire? fammi rire proprio, che ti non ha rire? rire, rire, ma che ti non ha rire? dì, su un dettaglio ahhhh mamma forse ma io però ah, basta ma l'ho guardata ma l'hai guardata ma l'hai guardata Che cazzo! Basta! Senti, l'ho guardata! L'ho guardata! L'ho guardata! No, io non ce la faccio! Non dovevi girarti! Ah, perchè mi hai girato poco! C'è molto! Aspettate! Facciamo un altro gioco! Ah, sentite! C'è un gioco che si chiama Never Again! Parli una creatura che soffre di crisi respiratorie! Ve lo metto pure a questo! Lo dovreste vedere! Aspettate! Ecco qua! Sentite! E' tutto inglese ovviamente! Non ci manca qualcosa! Però comunque non ci passiamo! Vabbè! Allora, facciamo un nuovo gioco! Perchè io l'ho provato! Per vedere cosa si trattasse! Visto che la situazione si faceva interessante! E quindi l'ho torto! Parla di una bambina che sta nella camera! Allora! 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 Spero che questo non è quel fatto che ti fa zumbacca! Sì! Sì! Ma la bambina siamo noi! Sì! 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 Siamo noi la bambina! Ecco qua! Vedi? Allora! Vuoi vedere la... Oh! Aspettate! Dobbiamo... Dobbiamo trovare i suoi... La sua respirazione bocca a bocca qua! Ok! Oh! 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 Non basta! Sto a mettere... Ah! Capito com'è! Praticamente possiamo... Tipo prendere... Sta roba! E questa è la reazione delle persone che vogliono uscire dalla quarantena! No! Sbattare la roba pullare! Guarda! Qua abbiamo... Un catenaccio! Chi? Eh! Ma io vedo stratti! Non... Vedi a tratti? Sì! Come mai sta cosa? Scusa! Non lo so! E' strano! Sposta se ci metto il luogo in patria! Allora! C'è capito! Allora! Tiriamoci il cassetto! E prendiamo... Tiriamoci... Ok! Niente! Tiriamo il cassetto! Prendi il cubo! No! Non fa niente! Ok! Vabbè! Ci prendi i cubi in meno per tutta parte! Va bene! Il mio pupazzo! Questo è! Tutta la coppa bascia! Lo posso manare? Ah! Devo aprire! Devo... Ah! Ecco qua! Sì! Chi è morto? Un passarello in armata! Guarda che non lo stiamo! Ma io vedo stratti! Non ho visto niente! No! Non ho visto niente! E com'è possibile? Come stai a fare questo passaggio? Eh! Ma vedo stratti! Eh! Perché il gioco è più di qualità secondo me! Perciò! Non vedo un cazzo! Comunque! Buongiorno! Stanno pari i suoi occhi! Non ci capisci! 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 Stai a costruire! Stai a costruire! Stai a costruire! Vediamo dalla spiongina! Ah! Non mi dite! C'era una faccia! Uno con i... Vai! Ah si sciame però! Scusa! Vi stai a costruire! Stai a costruire! Stai a costruire! Stai a costruire! Stefano! Mamma! Papà! Cosa è stato? Cerca Stefano! E i parenti! Eh! Ok! Beh! Ah! Non mi succede! Non mi piace! Ah! Sì! Non mi piace! Ehm! Non mi piace! Mi serve una torsa! Mi serve qualcosa per... Scusate! Sono proprio ignorante la situazione! Non mi piace la luce! Non mi piace! Non mi piace! Non mi piace! Eh! Ah! Sono spaventata! Capito! Eh! Ai che spazi! ma non ci metto a noi scusa ma perché questo è accanto? ma perché questo è accanto? è rotto è questo è favorito e favorito sui solito non ho passaggi però stai in un passaggio oh becchi facetemi fare a me facetemi fare a me e non so non so si pina se c'è qui pina se c'è ah stare qua sopra eh che la mi ha prenduto come spazio mi prendiamo? scusatemi sto provando a stai dicando ma come fai? come la prendiamo? scusatemi scusatemi come fai? guarda e tu l'hai fatta questa cosa? ci rimane ci rimane ci rimane ci rimane ci rimane ci rimane guarda ti riuscite? non lo fai è che non ci rimane la sèdra la sèdra è non ci rimane e la quale è è che cosa? sposta la sèdra qua sciuti la rimatia la rimatia la sciuti prendi la sèdra la metti qua ci sali sopra più di pesce che sta all'angolo, se no scusa che faccio? di muo di? Allora, canta 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 è tutto a posto, come faccio? C'è qualcosa che mi può interessare pupazzo? oh aspetta aspetta aspettate ti ha raggiunto un culo? non lo so non lo so ah ma forse devo portare il pupazzetto con lei perciò è tutto il pupazzo! sei spaventato, ti capisco ma come facciamoci? fammi capire è meravigliata allora facciamoci più o meno un'idea I have to hide my favorite things favoritemi ah ma ci devi stare per forza qualche foglia dentro del cassetto pure secondo me, perché non capisco che cosa cazzo o vicino pupazziello vorrei capire no, vedi dove stanno i cassetti sono questi fuori eh non mi fa prendere non mi fa vedere niente vedi stanno sulle letterine qua non mi fa prendere niente Stefano è davvero piccolo Stefano è davvero piccolo e sono i quattro e poi là dentro ciò che cosa lì nelle casse delle bambole c'è un codice forse chi è sta la casse delle bambole o è chi è la casse delle bambole nella cazza delle bambole c'è un codice uh 7 1 e 5 state zitto state zitto 7 1 e 5 ecco spazio perca 7 1 e 5 e non ciò che debbi togli e non ciò che debbi 7 1 e 5 e non ciò che debbi 1 e 6 e ooooh ci siamo fatti ci 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 quanto spazio in me è brutta questa bambole e abbiamo tutto in coppia invece non c'è cosa che è niente questo non ciò che ho preso questo ho preso e quindi la tab a buon segno di notte e poi tengo... ah ovviamente questo per respirare come si deve posso? tu sei cacato cazzo? è giusto vuoi capire pure? hai capito come funziona la cosa? la memoria è antica la mia mamma ha detto di clean la mia room cioè che ha già fatto? vuoi capire? eh che stai scazzata? hai sbagliato la bambola? ma cosa che la bambola faccio? sei capito? hai chiesto di fare una porta la bambola, che faccio? scusate sto cercando di capire, sto cercando di capire io ho già sbagliato, che è la cosa? secondo me, come la sbaglio? guarda sotto il letto c'è la torcia guarda sotto il letto guarda sotto il letto e non mi fa vedere niente sotto il letto tu chi ti vuoi? è bruciato non va, non mi fa vedere niente eh eh, stai lo con coppia stai che ci serve una lampadina per girarmi non smetta paura la cretina ma che sta eh qualcuno di voi mi ha dato una mano uh devo usare questa sedia qua ovviamente per prendere levo questa cacca levo ok ok qualcuno di voi mi ha dato una mano hai detto via sei già marrone ovviamente eh scusate ma sto esagerando con la fantasia non lo so eh ui che significa stupendo i cacca un tavolo non lo so cacca avvicinare la sedia ah vabbè ma fa solo guardare I can't reach the suitcase I can't reach the suitcase hai capito? ma fa solo guardare non mi fa fare niente più è una troia prendi il tavolo per stare il tavolo mi fa pigiare il dondolo non fa niente la pianta si è appassita eh scusatemi un po' con me ma quello che dico io tu mi ti ha paura di scia aiuto ma non lo so 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 l'armadio cerchiamone l'armadio può essere e stasera giù la mia patria allora oh che re ma che re tu sei nell'armadio qua giù tu puoi buttare l'armadio non lo so non lo so non lo so l'armadio ci ha portato in un altro posto dove sta? ma dove sta? bella e buona facetissima non mi fa piano la toccia questo guardate com'è che cazzo ho bisogno di pensare ho bisogno di pensare bella però c'è che sta armadio che sta spondola te tu sei la capa è morta non la piglio male la capa è morta quanto è brutto stai è chiuso, ti ha capito morto un bacio, che cosa fai, si è chiuso, fammi prendere poco meglio, fammi prendere poco meglio, io come volevo capire, ma non è che manca una torcia, non c'è niente, non c'è niente però, no non caccio amici, non ho niente proprio, non ho niente, non caccio, io veramente sono negato con queste cose, ma facciammi prendere, facciammi provare a fare una cosa, se è la chiave ha già capito, si però, bravi infatti che volevo fare, la capa è morta e volevo rompere questo vetro, che cazzo, ti ha azzeccato la capa, lo devo rompere, e no, non si rompe questa, mi fai tirare solo la capa è morta andata, ma c'è tutta la capa è morta andata a casa, scusate giù lì porta, non mi fai andare, oramai sto qua, voglio scusate, lancia la testa nello specchio, eh voglio sto a lanciare, eh ha già lanciato un po' per lì, eh mi faccio un muro, eh sto a lanciare la capa, questa già si è rotta la capa, devo prendere una torcia di questa secondo me, ma l'ha già brutto là dentro, che ne sace, questo penso io, buonasera Giacomo, cioè voglio capirmi, sto guardando a torno, voglio prendere una di quelle torce con il fuoco e torno in casa, e volessi fare pure questo, ma non, vedi no, ha già capito, che mi ha già portato, non lo so, ci va giù veramente, però non ho più indizi che potessero mettere, cadendo, eh, cioè guarda, non sta niente a fare, sotto il letto c'è la chiave, come torno a tornare a tornare io? come torno a tornare io? come torno, eh chiudi la rinta? scusatemi, non mi fa tornare, non mi fa tornare, fate fare qualcosa che, però, se mi ha dato questa capa a mano, penso che ci fa qualcosa, penso, ti ripetono dalla capa a te, niente, ci fa prendere la capa, non penso, e poi c'è questa porta che non sta niente, capite? è anche questa capa a mano, ma, c'è un passaggio, guarda bene, che non penso, c'è un passaggio, guarda bene, 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 cazzo, tu non penso, qua non credo, ma io, che stia sta niente, scusatemi, sto provando prima, niente, ma non è una cosa sceglie, veramente fai una cosa complicata, questo gioco, brutto a stai, brutto a stai, vai, fai a vedere la capa, vai, valla a trovare la capa, facciamo una capa, andate a vedere la capa, voglio, facciamo una capa, facciamo una capa, facciamo una capa, facciamo una capa, quando unis a spezza capo a spezza a lo spazzo in me allora ho la geminata voglio ho perso la testa ho perso la testa non la trova la capo non la trova ma no ma mucca kismet oi a spezza cap acapa 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 ma tu mi manca una torcia tieni noi mi tui la capo no ho buttato la testa no controlla nell'armaggio per se portata nell'armaggio non mi fa calare non mi fa izzare non mi fa fa niente sta troia non mi fa niente io ho perso la capo comunque acapa sopra c'è un uncino no è tutto a posto tengo il uncino ma puoi tenere la capo ora si ti hai canno no ma voglio mi sto pressionando non ho perso la capo ho perso la capo si apri il residuo in me si apri il residuo in me si apri il residuo capite poi si mette pure un fatto che ci passa la capo voglio la testa e ci passa la capo acapa la testa ci passa la capo non ci posso fare un cazzo acapa lo sta acapa facciamo così facciamo così vediamo usciamo e rientriamo prima di si fa tornato dalla capo aspettate voi muovite tanto abbiamo capito più o meno la situazione ok? ripartiamo da capo aspettate hanno donato scusatemi non ho visto chi ha donato? Nello grazie mille buonasera grazie mille facciamo un nuovo gioco vediamo un poco voglio capi? nella camera basta con shift e non mi fa calare con shift voglio voglio la nata perchè secondo me è bellissimo questo gioco cazzo 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 però secondo me fa paura questo gioco facciamo per lì ecco qua te ne so non so i regali a Pinesse Pinesse ti metti in miseria mi chiede molto vai ce la faccio adesso non ce la fa da respirare vai girati sotto il letto girati sotto il letto vai 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 ok tutto a posto la carta è sotto lì ehm è tutto a posto non ci capisco facciamo prima a respirare perchè sennò questo che lupo pazzo non muo... cioè mi raccadenti chi è? uh un mostro ok ok prova a rapì ora va a porta ovviamente cazzo tutto perchè è scuro stefan mamma ma papà ha un spazio mi sta a trovare stefan e trovi i parenti noi che già sappiamo il codice ok che già sappiamo il codice 715 quindi si capi 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 10 manca siete morti なんToday 10 11 12 ora stein 10 10 10 vedi che non c'è un cazzo, però comunque questo è il mio punto che mi segnala tutte le cose che c'è dentro qua, se mai mi ricordo qualcosa ok, se non c'è tutto questo, devi usare la stanza, perché se no non è malucco ok, quello che devo fare è prendere questa sedia, prendiamo questa sedia ma che la piazza fa la sedia che ho messo a buttare prima? ok, allora, a livello di torcia non c'è niente, quindi l'unica cosa c'è questo passaggio segreto ok, oltre a questo passaggio segreto c'è questa cocca da cosa, perché si va sotto lì e non mi fa andare vedete, guardate, il cuscino mi fa prendere, non mi fa fare niente, vedete? seppure apro qua, non c'è niente, apro qua, c'è questo cosa, me lo fa prendere, ma non c'è niente ok, è tutto a posto, ma ci ha portato una sedia che non so, andiamo controllo nelle scarpe, le scarpe non mi fa fare niente, con shift non si abbassa, è tutto a posto io l'unica cosa che devo fare è a giacca a dente scusate, ho controllato nelle scarpe non fa niente ok, guarda a turno, marona, ero stungue, è brutue, si si fa paura, esagerate, ok ok, e ci siamo ora praticamente, che ci sono qui, è tutto a posto sta a segnare qualcosa che sta cattendo? ok, vedete, è che ho capito, è un po' che ti è piaciuto non lo so, qua giù, è che ho capito, devo unire i cubi ora la capa è caduta dalla coppia, no? qua mi dice che la posso lanciare fammi vedere ora mi sembra che la capa è morta le mani qua non mi fa fare niente, la capa è tutta posso girarla la testa facetemi vedere la rocazza che la posso mettere in mezzo è un manachista non mi fa mettere un manachista non va un manachista è tutto a posto qua sopra può essere? no, però se me la fa lanciare c'è tu butala che stai e no Enrico la lanciava malamente la lanciava così ecco qua i nemici li è morti eh si si proprio qua la camminata vai che hanno già un po' morto fai un bagno vai allora voglio la giacuitare e questi palombi stanno per tutta parte la giacuitare insieme ai carabasci che stai aspettando non sta camminando su lei questo camminante eh gli batte un po' che il cuore gli batte ma si ma renda la cameretta la so se trovi l'induscia ma come è? eh a posto un po' che è morto il cuore è morto si capite? si capite? si capite? si capite? si capite? come ha già fatto? si capite? si capite? si capite? si capite? si capite? si capite? non c'è capito ma già fa dobbiamo aprire la cosa che c'è sta guarda per è stato d'arte ti serve una luce la verità che la luce te la dà quindi automaticamente questo specchio non so se questo è quello che deve riflettere di là questo qua ti ha dato la luce in tutti i specchi di regola ti ha dato la luce in tutti i specchi e chi sa da illuminarla sbaglio? come volessi? chi è? niente mi sono pressionato sai capite no po' che? ma già è illuminato la talla non ci ha illuminato neanche il cazzo però per ora non ci credo già ah ti serve una piazza di vetro per fare la luce eh hai te bu piazza di vetro piazza di vetro ah ma già più piazza di vetro che sei ruttato a casa ma uai che tarantella ma che mi indica grazie non lo vuoi nello stiamo carinando a basso non lo so scusate a me ragazzi si chiama Alessandro ciao Alessandro tu basso non si faccio mi faccio a te c'è più piazza di vetro la candela come credo poi non lo so penso che c'è più piazza di vetro la candela poi non lo so adesso mi sto sbagliando questa capace è molto affezionato è molto maceta è molto maceta oramai sono tornato alla rete comunque vogliamo poi passiamo a fare le guide non ti preoccupate eh voglio mi porto questa capace tanto mi ha portato un po' di compagnia ma no piazza di vetro la coppa no non mi fa mettere allora l'altra su un raggio di luce vedete entra il raggio di luce lo devi spostare lo devi abbassare al massimo perché allora tu se canni capì sto cercando pochi capì ma non capisco che manca il cazzo ma come fai a riflettere una cosa che hai hai ti manca una parte manca una piazza la coppa tutto apposto la rubica ma romanzo scassa tu cazzo il gioco babbo voglio passiamo a mano il gioco ma scassa tu cazzo troppa indovinella troppa non ho gente mi piace senti ti manca il gioco cazzo tengo che tengo c'è una bottiglia rompe un pezzo con quella testa stai a dire a gioco e zittia usa la testa per rompere il vetro sei tu sei tu allora va giù un po' di fuck guys facciamo noema facciamo fuck guys si si noema si facciamo 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 un po' di fuck guys apparemmo poco allora fuck guys fuck guys eccolo no non mi fa no no da qua da qua cazzo 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 ma non mi dobbiamo che fa gas non mi fa gas cazzo 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 però cazzo 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 allora noi ma capito no c'hai capito no fortuna e tu facciamo la prossima facciamo prima di poco ecco qua fall guys è pronto fall guys è pronto mettiamo un attimo fall guys qui qui aspettate ok oggi non ha mai vinto ancora fall guys lo sapete mai non ha mai vinto non ha mai vinto se fu una bambolotta mai non ha mai vinto papà una troia su papà una troia aspettate tutti i ragazzi arrabbi di capri di bruci allora fatemi sapere se vedete non vedete neanche il cazzo già lo so penso che aggisistimo ecco qua vedete ma vai di no ci mi vende una partita ah volesse vincere una partita una sola vai con i miei consigli vince più o quale tecaro va bene adesso ci si te non ci si te non ci si te non ci si te non ci si te venite un po' chi ha venite un po' allora non ci si te ne 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 se ne mi preoccupate è la prima volta in live vinciamo ahhh io sono una mostra sono proprio una mostra che posso giocare se hanno messo in mappa nuova sto guardando allora ah ma non ce ne va niente ma non ma questo non lo so, questo non lo so questo non lo so, questo non lo so come si fa questo? faccio una macchina scordata come si fa? ahhh sono una troia non si fa qui è un po' di cazzo che cagatia però zio che cusì però ehi no però manca già faccio già faccio affare un po' di cazzo che faccio gioco me sta portando a usare Eh buona No ma questo non lo conosco Questa mappa è troppo difficile No devo saltare dopo Non so che dà borsa Ma questo Vedi però se non mi danno fastidio Sono un mostro vedi Non ci spruzzano a nessuno Vedi se non mi danno fastidio Io con gamme le faccio le cose Ma se mi scassano il cazzo E' normale che io non ce la faccio Vedi guarda come sono una mostro Vedi Vedi che sono una mostro Ma perché io sto mandando a kill Stai zi Stai zi No 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 Voi ma non guarda Voi ma non guarda scatta un pochino ma come si chi ha creato? chi? chi l'ha creato? come si chiama? maronna, maronna, maronna ma come si fa? non riesco a fare niente guardate no no facetemi concentrare se mi facete concentrare faccio tante belle cose ma no si 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 eh ma 43 ma come si fa? ma troppo difficile però ah eh, guarda guarda ma come si fa però? è troppo difficile ma troppo ma io ho un pochino ma io ho un pochino ma io ho un pochino ma questa è una mappa che è molto difficile devo concentrarmi per farla questa perchè sto camminando contro la venta l'animechima è morta perchè sto camminando contro la venta ma io ho perso vedo se mi concentro secondo me posso fare belle cose però mi devo concentrare proprio al massimo vedete ah guardate perché sono una troia all'improvvisato ci siamo fatto maronna all'ultima tutta all'ultima troia era l'ultima troia ero l'ultima troia non si tenendo a nessuno zio zio che stai vinto sta parte vieni con marzo allora è una troia ora l'ultima stai facendo cosa tranne chi gli fa tre palle quale è che ah non c'entrò niente faccio prima lì e poi qui faccio prima lì e poi qui faccio il cappare prima lì e poi qui poi ovviamente sono l'induito della troia io subito induisco quale che si apre qua poi ti butti giù ok e poi ti tiri dai da cattoli qua pan 살� Sharredetta, vinc建 paura vincere qua possiamo vincere eh certo vincere ridumanode trovi sarà la prima, brava qua si aprono tutti quanti questi clifessi corri corri colors ok 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 buttatevi, rimendi chi si raffa chi si raffa Zitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit come si forte caro lì ah 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 dammo cacchino è morto ha dato un guolo a me va guardate guardate era la prima vabbè la prima è delle troie vai facciamo in un'altra non vale non va io era prima la ma hanno zumbato un guolo ma sono attaccato un guolo come i zecchi sono attaccato vorrei un attimo cambiare però l'immagine di scopertina vabbè non va niente faccio faccio paccio però se ne faccio tutto che vuoi diamo prezzo e prezzo guarda là guarda là sono attaccato un guolo Noemi ma tu che ne pensi so giocare no Io non ho mai vinto su Five Guys. Questa è la prima volta che vinciamo in live. Perché sei fortunato? Perché sei forte. No, sono troppo forte. Fammi, fammi. Io devo solo stare calmo. Quando un coppa sui giochi, se stai calmo e fai le cose già nujane, ti riescono. Vabbè. Se tu pensi che fai una sola volta, senza sbagliare nemmeno, hai vinto. Ok? Però ti devi concentrare. Ne hai presso. Ok? No, vediamo. Un detto antico che hai fatto per chi ha preso facendo i figli scegati. Che vuol dire? Non lo so. Però facendo i figli scegati. Non potrei prendere i figli. Non lo so. Ehi, non lo so. Quando uno ti ha proprio troppo, non lo so. Guardate, non lo so. Guardate, non lo so. Guardate, non lo so. Ma venite voi. Con i 150 map mi è capitata la stessa. Ti ho detto anche, non lo so. Stai, non lo so. Questa e una tattica mia. Andate voi, andate. Andate. Va, 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 va. Cari da bacio, ok. Da poi. Va, 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 va. Iadi voi, 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 iadi, 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 iadi. la calma vedete la calma ma come so troi mamma mia questa carne a basso è un po' di presso guardate 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 guardate, 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 guardate la carne a basso oh Gesù, questa carne a basso maronna, come so forte vedi come cadono giù bisogna avere pazienza amici bisogna avere pazienza pazienza nooo ma la amica è morta se ce l'ho fatta prima ce la farò anche adesso amici con pazienza con pazienza con pazienza aizzo da te ma non si accamano come usso un der si accamano ma ci fatta capo e capo che luca è morto guarda con calma che ero non vatti prendere da ansia 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 ok con calma chi sta vede e tu zumba con calma che ero con calma aizzo da te zumba aspetta aspetta falli fallone falli falli fallone tante morono morono tu qua ce l'abbiamo fatta ma che ce l'abbiamo fatta va ma che ce l'abbiamo fatta va mamma mia quando uno è qua qua quando si studia un po' che l'acqua quanti po' zuccaro tutte le volte eh là chi sono io chi è questo siamo belli ah beh ho fatto lo cazzo ma mi sembra da pazienza ma vedi bene tu noi ma noi ma vedi bene tu e guarda la big babbolla prima di po' ce l'abbiamo fatta amici ce l'abbiamo fatta vi preoccupate questa è una partita vinta questa è vinta eh questo è Noemi ma come sono curioso queste cose ma che sono ma sono strunzi di cane che sono sti cose che sono che sono sono cacchie di conigli queste cose che camminano che sono gelatine guarda che sti che mazze guardate 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 questo va di fretta qua perciò non riesce a vincere perché va di fretta guardate guardate come va di fretta vedete vediamo chi stia di poccare a basso yaa ma ci muovere yaa brava Carol sei una mostra amici questa è vinta sta fortuna facciamo fammi vinta qua 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 ne siamo 36 amici speriamo che ci sia una mappa bella si permette che è lì prima però comunque capite ma non so neanche a cercare quello se no mi savi mi nevoisca chi è? nooo l'uovo chi è l'uovo? non sto facendo niente che hai chi è? chi è stufa? ahhh cosa stai facendo portare l'uovo in dentro in casa nostra è in sua pratica quella uova che colori sono? vai dai Carol vai che colore sono io? ero giù vai amici prendiamo l'uovo eh Carol proprio tu hai vinto oh prendi l'uovo prendi l'uovo Carol prendi l'uovo prendi l'uovo prendi l'uovo prendi l'uovo vai vai Carol vai 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 guardi l'uovo è l'unica troia che aspettate che sarebbe c'è nevo ma nooo come si è fatto Carol eh guarda che cagato uscita da me l'uovo c'è devo mettere proprio qui già come spazziamo se pazza l'uovo vediamo l'uovo Eh abbono no io ho perso qua eh Guardate qui là quando stanno No vado giù non so Eh faccio il capriolo sull'icca guardate vado giù Ehm per lui come c'è Dammi l'uovo dammi l'uovo scappa Carol Nooo nooo Fui sempre fu Guardate quanto uovo è terno ah Pillù Pillù Ma ora Carol è come si è forte vai Carol Pillù Purti in da casa tu puoi Chi sta con me chi sta Purti l'uovo Ma che è l'uovo che stai Dammi l'uovo dammi l'uovo dammi l'uovo Naccio Abbiamo perso noi amici Abbiamo perso Naccio chi va è morto Naccio chi va è morto Abbiamo perso Guarda una squadra di merda tenevi A parte che è un tazzo cavolo Però è una squadra di merda Qua è un tazzo Mamma mia Tazzo è tu Tutti l'uovo E non lo so Boh Naccio il mango cavolo Questa è la prima volta per me che gioca a sti cozzi cozzi Vai giù Ah Comunque bisogna riprovare No ci dobbiamo riprovare amici Riproviamo Riproviamo Vieni 16 uovo quando mi piace 17 uovo Ma una volta Una volta che stai già a fa Dai mi stai piano in giro allora così Sei proprio per il culo Cioè fanno tutto questo Questo fa la terza volta Ma loro bisogni morti E questo Ma chiesto di scelte Vi non c based Dai 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 da morire Vuoi mantenere È un povero tanto questo è difficile da vincere guarda giù, questo è difficile da vincere qua cadono tutti quanti non mi manate a me a basso che faccio cerri il tarantello questo è difficile da vincere cadono tutti quanti giù, guardate io aspetto, me ne fitto proprio caduto giù ormai siamo dei mostri su questa mappa qua vai giù, siamo delle mappine vai, cadono, cadono cadono, cadono mi mandano i sce va, va, va oh, che è il pupugno, non mi sce oh, è un mutano oh, no tu che ti è morto sai che è a basso ma come so, ma come ha già fatto, ma che resta la potenza Caroli, ma tu, ma tu non si umana troppo forte, stai Caroli ha fatto una capriola non indifferente non ha fatto una capriola esagerata, eh, Caroli uè, Maroni, stai a basso, Caroli ma nooo ora mi esaurisca, ora mi esaurisca la calma, la calma è la virtù dei troioni vai ma come si è forte, caroli, stai in taffa basta capire una volta una cosa si ti mette la muca, ho puoi affrontare una musica eh no la fa, o no la va ma c'è, si fa bene, dai giù, dai che dice, dai è le mie lascia lo ha fatto qui, mentre questo si è Towel questo è quello che si è fuori questo mi piace chi è vuoi il pupaglio, avvi dico, ma ma che resta bene in abbasso questo c'è ma chissà ed è beggimi sta gente stanno guarda stanno beggimi sta gente da chi sta perché vanno presso guardate che vanno di freddo guarda da chi sta sta su lui non si trovo guarda ce la fai io non so mai mai è una è due è tre è quattro è cinque ah c'è due ah c'è due eh adesso se non mi abbassi ma ah guarda ah ma perché se non mi abbassi sta subito là un po' abbassi qui ma non mi è poco nemmeno ho un buon ballone che tiene è un bambino che è in casa che è in casa? 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 e te e te e pezzoglio e pezzoglio e pezzoglio che stai vincima mi preoccupare uoi brotor sta per il mio figlio Ciro qua amici eh andiamo bene ma se non ti capita qualcosa non ci capita l'uovo ma rokylu questo non l'ha già mai fatto l'uovo vediamo vediamo se ci capita il frutto a me sta banana sto a posto senza problemi che ha già fatto? 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 dici che mi ha fatto? ma chiudo nella porta? Ciro per favore se non mi sta a porta cagli in genere che tu non c'ha fatto lì vai ah beh perché già fai frutto e banana frutto e banana non si capi va bene basta che mi aiuti che a me mori a posto che mi ricordo manco qua vabbè allora noi non ci muoviamo ciliegie mamma no ma basta ciliegie e pesce ciliegie e pesce ciliegie 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 ma uv uv melone e capocci uv melone melone capocci melone capocci melone capocci melone ma non facciamo ma non facciamo ma ci scutate tutte cose ma ci scutate tutte cose ma non c'erano prima chi è lì là le palline ciliegie stavano solo lui Mannazzo bucchino, va giù, ho perso amici, ho perso amici, purtroppo questo gioco non va per me, purtroppo, allora facciamo così, abbiamo fatto un po' di orrore, abbiamo fatto pure ufa, gas, caroline non ti sento, mi senti? Basso mi sento, mi senti basso, 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 mi senti, mo' mi senti? Mo' un po' meglio, leggermente, ah boh, non lo so perché sto fatta, ma se mi passi non ti sento come faccio l'istituto, hai ragione, allora, facciamo un po' di Fortnite che a noi mi non piace, ecco, facciamo un po' di Fortnite perché abbiamo fatto un po' di tutto e facciamo pure Fortnite perché comunque bisogna accontentare un po' tutti quanti, quindi Noemi, se tu vuoi ci vuoi fare compagnia non ci sono problemi, se tu non vuoi andare a f*****, non ci sono problemi. Ma perché mi tratti così? No, 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 per amore di, per amore di Noemi. Eh. Oggi credo quando Noemi sta in calza, ti vende come che la creaturin, tu giochi paura. non stai da fuori a f***** Ti faccio compagnia se giochi poco. Come ne faccio? No, no, non giuco arri abduct sound perché... perché, perché secondo me devo andare pure io. No, però voglio cambiare la copertina del canale. Ah, è interessante. Qua la metto? Ok, sabba. Un minimo devo dire che questo è il bambolotto. Sì, vediamo che faccio il bambolotto. E non sai giocare. Ok, allora. La ragazza è Noema, amici. È una fanza con l'affanno. Amici, non lo faccio, non ho spammato Mekle. Ho spammato Mekle. Ma io voglio vedere i commenti. Questo da telefono, come faccio? Da computer. Eh, voglio accendere. Eh, non lo accendere. Non lo accendo, voglio vedere i commenti. Allora, vediamo se sta prendendo Fortnite. 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 Ma noi non potremmo pazziare a Fortnite, vai giù. Perché sto facendo la live da... Non possiamo giocare a Fortnite, vai giù lì. Perché sto facendo la live da... Da questo computer qua. E non la posso fare la live. Perché ora mi laggo tutte cose. Ma se io abbandono va bene. Come? Se io abbandono ti puoi giocare l'altro? No, ma voglio capire. Ma secondo me non riesco a giocare proprio bene. Ma vediamo. No, ma non riesco a giocare bene perché sto facendo la live da coppa uno computer. Invece tengo due computer per fare uno per fare la live e poi sto facendo la live tutta la coppa uno computer. Secondo me non riesco a giocare bene. Lo vediamo. Ma? Dice Elisa che è peccato. Baffanculo Elisa. Eh, secondo me perché non riesco a giocare bene. Ma lo faccio per lei. Non riesco perché gli FPS vanno a mancare. Capito? Guardi un coppa GTA. Sto qui su lì. Ci sta nessuno. Ci sta Raffaele. Ci sta Reagan. Ci sta Frank. Ci sta Pascal. Ci sta Tony. Ci sta nessuno. Sto su lì. In coppa GTA. Ma che fa? E ciò che facciamo la prossima volta? Può darsi pure che va bene. Eh, ma ci proviamo. Però secondo me non andiamo molto bene. Secondo me. Ci proviamo. Vediamo un pochettino. Eh, già mi lagga dietro a passare per passare. Cioè voi non lo vedete ma a me mi lagga. Capito? Ma può essere pure che... Ce la fa, eh. Può essere pure. Ma vediamo. Proviamo. Proviamo. Ma non va sicuro niente. Secondo me. Ma è una grande luta. Se per i privati non li tengo. Comunque non riesco a giocare bene. Purtroppo... Ha già fatto la live con il pacchino di computer. Ti capi? Eh, già si inceppa un poco. A me si inceppa un poco. Si inceppa un pochettino. Ma chi hai il tuo cazzo? Su qua. Non ci capite. Non ci capite. Ma ho abbassato la sensibilità. Quando ci faccio male? Ma è una cosa che è durata. 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 Oh, la sento... Bassa, bassa, bassa. Ma non lo so. Ma non lo so. Ma è una cosa che è durata. Ma non lo so. Ma non lo so. Questa non è la sensibilità a me, come cazzo sto cazzo qua, scusate ma Ma non è la mia sensibilità questa, non so chi ti è muerto Aspettate, facetemi giuro un attimo sti cazzo, ma sto cazzo qua in un modo che non è questa la sensibilità a me, ma che cazzo è successo, scusate Che vuol dire questa cosa Io avevo lenta la sensibilità, prima ne può, cazzo è 12 là, ma cazzo quanto tempo? 800 di più, qualcosa non va allora, qualcosa non va E' strano, no comunque non riesco a giocare così a me, mi dispiace, mi dispiace Proto Perché sto facendo tutta la coppa 1 computer e non va bene, non va bene Capite? Sì, ora vedo, ora vedo Ui, Mr. Gigi, grazie mille, Mr. Gigi, veramente, grazie di vero cuore Grazie di vero cuore per questa donazione Facciamo così, la prossima volta, facciamo live in Coppa Fortnite Però facciamo, la facciamo, la facciamo, la facciamo, la facciamo, il computer Ma, te, allora, dopo questo euro lo doi a me Come? Questo euro lo doi a me Eh, tu lo guardi, dopo questo euro, va bene? Ti doi a me, tu? Ti doi a me, tu? Che buono Ti doi a me, tu ti doi a me Eh, va bene, non c'è un problema Non c'è un problema Ma, Gigi, io vi saluto veramente, è stato un piacere di pazza Vi saluto perché sono sull'Anna Sono sull'Anna di un maniera Ciao ragazzi Mi hanno un bacione Un saluto da parte mia, da Noema Arrivedo a tutti quanti